La telefonata viene da Elk Rive, Missouri. Il numero di telefono è 3144765123. Intestato alla società deosofica per il ritorno dello spirito originale. Chiuso da una ventina di giorni per una sentenza del tribunale per non so quali rischi per la salute mentale dei suoi addetti. Perchè se muove la chacun di cui si che si che la chiusura è quella dei suoi addetti. Pokà che non si arriva anche se è un po' di alta risposta del divino. Ilarenza. Noi, non è avversi, ma per superi, che non s'ilbrirà l'estatuto alla società di loro, E sono morta a Chicago. 1985. Yes, thank you. Dan Ponson, bye bye. La chiamata non viene dalla sede della società teosofica, come si poteva supporre, ma dal telefono di un comune abbonato che vive a 30 miglia di lenti. Il numero è intestato a un certo Roger McCormick. Dovrebbe avere un ingrosso di mangini. Come on.